I've been living in paradise and no more waiting on you tonight and my dreams will never ever die Bene, però devi salutare anche tu, lo sai, lo sai, sei qua, ti tocca Ciao! Salutati a tutti Giorgia Ciao No, vieni qui, che ciao Lei è Giorgia Ciao Giorgia, da quanto tempo non bevi? Abbastanza Ok, allora oggi abbiamo l'ospite Che cade malissimo Che cade malissimo e che mi sposta al letto, va bene Ciao ragazzi, oggi la luminosità fa un po' schifino ma noi ci accontentiamo E anche io faccio un po' schifino ma ci accontentiamo comunque, vero? Assolutamente Oggi vi propongo un how I edit my photo di Instagram Io e l'italiano e l'inglese soprattutto siamo così Vi faccio vedere come edito le mie foto Visto che mi state puntando addosso i coltelli su Instagram Ma volete vedere come edito le foto? Anche se non faccio niente, ma proprio niente di particolare Cioè questo sarà il video da editare più veloce della storia dei video editati veloce Perché uso un'applicazione poverina, una sola, due proprio se andiamo a vedere e basta E tra l'altro è gratuita, sono gratuite entrambi Spero che questo video possa essere utile a qualcuno per fare le foto molto tambla Perché è un stile di vita al tambla Sto ampiamente prendendomi per il culo da sola Vi lascio all'affare e ci vediamo Allora queste sono le applicazioni che uso per le foto Però per fare il profilo fatto in questa maniera Quindi con i neri molto grigi, molto tumbla Uso questa applicazione qui Che è molto conosciuta in realtà Quindi penso che la conoscerete in molte Barra molti Comunque prendo una foto a caso Tipo questa che avevo già programmato E faccio Allora io qui ho fatto tra l'altro l'abbonamento Quello gratuito Che ti dà tutti i filtri inutili Perché poi alla fine sono tutti molto uguali E quello che uso io sempre è il P5 Tutte le volte che mi chiedete Giulia che filtro usi? Uso questo qui Poi lo modifico un po' E di solito Abbasso un po' l'esposizione Non di tanto Alzo un pelo il contrasto Ci metto un po' di messa a fuoco e trasparenza Ma proprio cincinino E poi un po' di dissolvenza Per rendere i neri un po' più grigi Ok Questo è il modo in cui io edito le foto Poi a seconda della foto Tante volte visto che questo filtro qua tende molto al verde Aggiungo dei filtri O di luce o di ombra A seconda di appunto dove servono Per controbilanciare Nel senso se io ho una foto E questo filtro me la rende molto verde Per dire ci metto un filtro rosso Non troppo Però quel minimo da controbilanciare Oppure se c'è una foto molto gialla Ne metto uno viola Che appunto mi ribilancia un po' il bilanciamento del bianco Poi ovviamente per fare lo sfocato Uso facetune Che però vi rimando al video Quello che avevo fatto tempo fa Perché lo modifico nello stesso modo Ad esempio in questa foto qua Io poi faccio il Come si dice Lo guardo da qui Questo è il bianco del telefono E io guardo Come si dice Capitemi Aggiungo un pelino di viola Nei punti luminosi Ah Giulia La Giorgia lì che ride Che non ce la può fare Ok Quindi la salvo E come vedete Mi toglie un po' di verde Giallo che c'era E poi niente La salvo E la pubblico Anche subito Tipo salva Un'altra applicazione Che vi straconsiglio È questa Che si chiama Preview Aspetta come si chiama Preview e basta Qui praticamente Io ho collegato Il mio account Di Instagram Quindi quelle con il bollino Che vedete È il mio profilo Di Instagram Voi potete aggiungere Delle foto Per vedere Come ci sta Nella feed La feed sarebbe Questa Quindi vabbè Io questa qua L'ho messa Quindi le cancello Questa tipo Che è quella con Filippo La devo ancora mettere E voglio vedere Prima di pubblicare Quella lì Se ci sta bene O meno Ci sta bene lì Se io la sposto E la metto qua No Perché ci sono io Due volte Quindi Tipo Io devo pubblicare Prima quella E poi pubblicherò Quella Perché A me personalmente Piace di più Poi Ognuno E niente ragazzi Io vi mando un sacco di baci Mi raccomando Se non mi seguite Ancora su Instagram Seguitemi Che lì più che altro Vi aggiorno sempre Delle cose Dico delle cose Che magari su YouTube Non dico Posso comunicare con voi Un po' più velocemente Tutto qui Quindi niente Vi mando un sacco di baci Seguite anche Giorgia Seguite anche Giorgia Seguite anche me Che sono parecchia disagiata Anch'io Lei è disagiatissima Anche più di te No Molto più di me Però Spingiamola a fare la YouTuber Io la sto spingendo Per fare la YouTuber Perché Anche lei Come finito Avrebbe un sacco di cose Da dire Vero Giorgia Un sacco di cose da dire L'ho detto Povera Pippi Povera Pippi Oggi era qui con me E l'ho detto Vabbè Giriamo Devo fare questa cosa Ma di solito Sono anche più carina Nel senso Sono anche più Decente da guardare Vai Ok Vi mando un sacco di baci E ci vediamo alla prossima Ciao